Mentre facevamo il bagno dopo cena abbiamo sentito un forte odore di cloro e quindi ci siamo subito allontanati con i ragazzi dalla piscina. Li abbiamo accompagnati insieme allo staff in una zona un po' più tranquilla nel tratto dove abbiamo atteso l'intervento del 118 perché molti di loro tossivano e sentivano un bruciore alla gola. Sono stati momenti concitati, quelli vissuti nella serata di mercoledì qui nella piscina dell'hotel Ancora di Lossonna della Battaglia a Meolo. Doveva essere la festa finale del campo scuola organizzato dai genitori della parrocchia di Vaglio di Roncade si è trasformata in un'autentica disavventura. Io ero in piscina praticamente con i ragazzi e all'improvviso ho sentito un bruciore, un pizzichio alla gola, sono uscita e poi dopo un po' sono usciti anche i ragazzi e hanno cominciato a tossire. Genitori e titolari della struttura chiamano così soccorsi che arrivano sia dall'US2 Marca Trevigiana che dalla 4 Veneto Orientale. L'intervento, spiegano gli stessi genitori, è stato tempestivo. Subito le tre ambulanze che sono arrivate hanno controllato i nostri ragazzi e per precauzione ci hanno indirizzato all'ospedale di Treviso e di Sandonà. Quindi ci hanno suddivisi in due gruppi e niente, lì poi sono stati fatti tutti gli accertamenti del caso. Otto i ragazzi che arrivano trasportati dai genitori al pronto soccorso del cafoncello a Treviso, otto all'ospedale di Sandonà. Per alcuni sintomi svaniscono in breve tempo, altri vengono sottoposti ad aerosol. A tarda notte però tutti vengono rimandati a casa. So che stamattina sentendo i vari genitori erano tutti a posto insomma. Possiamo parlare di una disavventura agli etofili? Assolutamente sì, anche perché ci siamo sempre trovati bene qui, non c'è mai successo niente di strano. Alla base dell'incidente una problematica alla distribuzione del cloro. Ieri purtroppo la macchina del cloro è andata un attimino fuori troppo cloro di quantità che doveva uscire e loro si sono trovati proprio in questo punto. Appena abbiamo sentito l'odore del cloro siamo subito intervenuti e abbiamo spento la macchina. E' stato già revisionato per cui è già tutto a posto anche ieri sera ancora. Disavventura quindi a letto fine con la promessa di ripetere il party di fine campo a scuola. Abbiamo già detto sì, faremo una pizza e tanta tanta piscina e allegria. E' un letto fine, siamo tutti bene e è a posto così.